Buonasera, buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa nuova tappa della maratona di panel di How to Govern Europe, settima edizione. Io sono Angelo Limambro, sono giornalista dell'ANSA e dell'informatore agrario. In questo panel parleremo di pandemia e agricoltura europea e superare l'emergenza, governare la trasformazione. Con noi ci sono collegato via telefono Paolo De Castro, europarlamentare, membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Abbiamo Annalisa Zezza, che è direttrice di ricerca del CREA, che è l'istituzione della ricerca pubblica in agricoltura e in agroalimentare par excellence, nutrizione anche, e io direi di partire subito, perché il tema è essenzialmente pandemia e agricoltura, vale a dire che cosa l'agricoltura ha tenuto in qualche modo, così sembra, però al tempo stesso l'impatto della pandemia è stato abbastanza forte, soprattutto in un primo momento l'abbiamo visto, blocchi dei prodotti alle frontiere, abbiamo visto problemi per i lavoratori stagionali e quindi prima domanda che farò ai nostri ospiti, stiamo aspettando anche Michael Scannell, direttore generale aggiunto della DG Agri della Commissione europea, la domanda che girerò a loro, la prima domanda è sono le misure che sono state prese, sono state sufficienti, mentre la seconda è questa trasformazione sul lungo termine, poi che cosa ci dice? Come governare il dopo? Aspettavamo la ministra Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, purtroppo i lavori sul nuovo DPCM continuano e richiedono la presenza di tutti gli esponenti del governo e quindi non è potuta essere con noi. Quindi io partirei immediatamente con la prima domanda con Paolo De Castro. Allora, l'Europa ha risposto in qualche modo con delle misure di sostegno straordinario nella prima fase. Sono state misure sufficienti Paolo De Castro? Intanto buonasera a tutti, grazie di questa opportunità e mi scuso in anticipo di questo collegamento un po' disturbato, ostante dove mi trovo. Io direi che mai come questa volta c'è stata un'Europa che ha reagito in modo solidale e anche nei tempi molto molto rapidi. In senso generale la spinta che ha dato con il recovery plan sicuramente non ha precedenti. Basta ricordare la crisi del 2008-2009 della Lehman Brothers quando tutti accusammo l'Europa di una lentezza e di una scarsa azione di stimolo per l'economia. In questo caso c'è stata una reazione molto forte, 750 miliardi di euro di recovery plan di cui tra l'altro un pacchetto rilevante sotto forma di aiuti grant, cioè senza. Diciamo per i trasporti, per superare le frontiere. Devo dire che oggi il problema è fondamentalmente legato a quella parte della domanda alimentare legata al canale orecca legato agli hotel e ristoranti e ai parchi sono chiusi, causa i vari lockdown europei e anche extraeuropei che hanno di fatto ridotto la domanda alimentare di circa un quarto con effetti rilevanti soprattutto per quei paesi, ahimè come l'Italia, che ha un ruolo nel food service rilevante rispetto anche ad altri e quindi il problema rimane ed è anche un problema diciamo solo in parte mitigato dalle misure europee, dai vari atti delegati che si sono succeduti e non ultimo dalla Next Generation EU per lo sviluppo rurale, questa straordinaria iniezione di liquidità che abbiamo approvato proprio i giorni scorsi insieme con il regolamento transitorio. Quindi direi sì, la risposta è che l'Europa c'è stata, è evidente che è una crisi senza precedenti che ahimè ancora non è esaurita e quindi difficoltà senza altro ancora ce ne sono, stiamo valutando oltre il Next Generation EU quali altre misure poter intraprendere per venire incontro soprattutto a quella fetta di mondo agroalimentare che ha sofferto di più e che sta ancora soffrendo causa la chiusura del canale Oreca. Annalisa Zezza, abbiamo parlato di un impatto sull'Italia, alla fine possiamo dare dei dati, cioè possiamo per inquadrare l'entità di questo impatto, quanto ha fatto male? Abbiamo visto come dire alcuni prodotti agricoli, aumentare le vendite, altri invece essere in difficoltà. Quanto ha fatto male e a chi ha fatto male il blocco delle attività conseguente alla pandemia? Buongiorno, anche io vi ringrazio dell'invito e saluto anche Paolo De Castro. Ecco, io su questo quanto ha fatto male e direi quanto farà male ancora tenderei quindi a distinguere questa fase iniziale che conosciamo bene in cui c'è stato questo forte calo della domanda e la chiusura di alcuni settori a cui si è fatto fronte con delle misure straordinarie, lo ricordava De Castro e anche in Italia con le iniziative che si sono succedute dal Curetaria al decreto rilancio, di iniziative delle regioni. Diciamo c'è stata una mobilizzazione straordinaria di tutte le risorse possibili, sono state attuate deroghe, è stato facilitato l'accesso al credito, diciamo si è cercato di aiutare. Però quello che stiamo vedendo è quello che dicevamo soprattutto all'inizio che questa appunto a differenza dell'altra crisi non era una crisi dell'offerta, era una crisi temporanea della domanda. Però la situazione sta cambiando con questa seconda ondata, soprattutto a livello mondiale, sono appena uscite le stime dell'Ox e a cui poi si allineano, diciamo fa Ox e a cui si allineano poi quelle dell'autos europee e a discesa anche le nostre. E mentre se ad aprile noi stimavamo, diciamo, partivamo da una caduta del PIL del 3,5% e poi una ripresa nel 2021 che quindi determinava solamente un calo temporaneo della domanda e poi un rapido riallineamento alle condizioni di partenza, adesso le nuove stime che stiamo facendo che noi stiamo facendo per l'Italia ma altre hanno fatte a livello mondiale partono da dei dati sicuramente molto più importanti con una caduta del PIL molto maggiore e con del 9,5% nel 2020 ed una ripresa di appena il 3,5% nel 2021. E questo vuol dire che a livello mondiale si stima una forte caduta della domanda per via della caduta del potere di spesa delle famiglie che crea quindi un eccesso di offerta ed una caduta dei prezzi agricoli. Si stima una caduta dei prezzi dei prodotti agricoli a livello mondiale nell'ordine del 10%, ovviamente con settori che ne risentiranno di meno, settori che ne risentiranno di più, di più per esempio i settori zootecnici che hanno una domanda più elastica rispetto al reddito e ovviamente questa caduta dei prezzi si ripercuote poi sui redditi agricoli più o meno nella stessa misura. Sto parlando quindi di previsioni a livello globale ma sicuramente questa domanda a livello globale si riflette anche sulle nostre esportazioni. Mentre prima pensavamo di tornare in linea in pochi anni, adesso invece l'orizzonte temporale per tornare ai livelli pre-Covid è sicuramente molto più lungo e va oltre il 2025. Il commercio internazionale ne sta soffrendo e quindi ecco questa è la situazione che ci troviamo davanti, che crea anche enormi problemi sociali legati all'alimentazione, ma forse di questo possiamo parlare dopo. Sì perché, grazie dottoressa Dezzato, perché intanto avevo visto comparire Michael Scannell ma chiedo se c'è... Io ti chiedo se c'è da fare un altro intervento perché ho paura che cade la linea per cui... No, infatti venivo da lei. Allora, abbiamo sentito, come dire, la crisi potrebbe protrarsi in qualche modo, gli elementi di crisi potrebbero durare più a lungo. L'Unione Europea ha in qualche modo commesso sulla digitalizzazione, sulla modernizzazione, ha scommesso sul lungo periodo, ma poi le esigenze, quelle quotidiane, delle imprese, degli agricoltori, verranno... cioè tutta questa roba tra l'altro è appesa a un veto che c'è in consiglio. Allora, che cosa succede se tutta questa meravigliosa dotazione finanziaria e queste grandi idee vengono bloccate in consiglio? Intanto direi... intanto saluto Annalisa Zezza anch'io, ma devo dire che stiamo in presenza di una crisi senza precedenti, per cui è oggettivamente molto complicato fare previsioni. Le previsioni potrebbero essere tutte sballate in funzione anche della rapidità con cui i vaccini saranno distribuiti e rapidamente potrà tornare una pseudonormalità abbastanza presto. Quindi è difficile fare previsioni di lungo termine. E noi quello che dovremmo, a nostro avviso, innanzitutto superare, come ricordavi tu, questo veto polacco-ungherese che sta mettendo davvero in difficoltà, la partenza di questa grande leva finanziaria di sostegno all'Europa. E poi, cosa che mi auguro davvero avvenga in tempi molto rapidi entro dicembre, per consentire di evitare l'esercizio provvisorio, che per l'Europa l'esercizio provvisorio comporta una serie di problemi difficilmente superati. Ma soprattutto, una volta che le risorse sono state messe in campo, e il Nexio e il Regione EU, ricordo, sono un'iniezione di 10 miliardi aggiuntivi, 8 miliardi dal recovery plan, più 2 miliardi e mezzo dal quadro finanziario pluriannale, quindi un pacchetto di 10 miliardi per lo sviluppo rurale, già subito dal 2021-2022, per gli investimenti, per i giovani, per l'agroambiente, è una risposta. Però il problema è capire, in funzione delle diverse tipologie di agricoltura e di sistema alimentare nei vari paesi europei, e come ci si posizionerà in questa nuova globalizzazione post-Covid. Perché c'è da dire che abbiamo in piedi una diatriba con gli Stati Uniti, non banale, che potrebbe però forse vedere la fine con l'arrivo dell'amministrazione Biden. Così come potrebbe, io mi auguro a breve, proprio questo molto a breve, questione di giorni, se non addirittura di ore, un accordo con Boris Johnson potrebbe far vedere la luce anche relativamente all'accordo per la Brexit. Quindi, diciamo, sono troppe le variabili. Quello che dobbiamo fare è mettere in condizione le imprese di andare avanti, soprattutto le imprese di alta qualità, che stanno soffrendo di più, lavorare di più sulla promozione, sugli stoccaggi, sulle regole che consentono di mantenere quei canali commerciali che faticosamente sono stati conquistati. Perché finché è una crisi di domanda uguale per tutti, va bene, ma come stiamo vedendo, già in Asia ci sono alcuni player che stanno già approfittando della situazione. Onorevole De Castro? È con noi? No, credo che abbiamo perso. No, purtroppo, si, Angelo, ti confermo che il scanner non riesce a collegarsi, problemi di collegamento, quindi, niente. Allora, ma Paolo De Castro c'è? Non lo sento più, stava finendo il concetto. Ok. Purtroppo, diciamo, un panel un po' sfortunato, mi dispiace, ma infatti adesso è caduto, perché adesso è caduto anche... anche il dottor De Castro. Adesso è collegato Michael Scannell, però, attenzione, che forse riusciamo... Buonasera, Michael Scannell. Si, dica lo vediamo, se attiva il microfono. Ci sente? Se attiva il microfono? If you... If you could unmute you. Please. Collegato e collegato. lo stiamo guidando c'è la mia collaboratrice che lo sta guidando nella gestione di questa intanto noi potremmo lanciare il sondaggio in questo momento? sì, assolutamente sì eccolo qui ecco qui, il nostro sondaggio è il titolo del panel praticamente, le misure prese dall'Unione Europea a sostegno del settore agricolo e alimentare durante la pandemia sono adeguate? sì, perché il settore sì, il settore beneficia già di un sostegno pubblico oppure no, la pandemia ha dimostrato che si tratta di un settore cruciale, troppo importante quindi servono altre misure e poi c'è non so adesso tendiamo di raccogliere ok come ok intanto Michael Scannell è fra noi ma c'è ma non si manifesta ancora allora intanto io proseguirei con la dottoressa Zezza se permette allora abbiamo visto abbiamo parlato la situazione è di difficile lettura in questo momento però lei ha fatto riferimento ad alcuni problemi di lungo periodo che poi voglio dire sono in qualche modo esterni o quantomeno non sono attinenti solo al settore ovvero l'impatto sociale sul lungo periodo di questa di questa pandemia abbiamo visto delle recenti analisi secondo cui gli italiani avrebbero in un recente sondaggio hanno dichiarato di essere stati in difficoltà economica più degli altri europei la percettuale di intervistati che ha detto di essere stati in difficoltà economica durante la pandemia era superiore ecco questo che cosa vuol dire dal punto di vista di un paese che ha basato sul valore aggiunto e sulla qualità del prodotto alimentare e quindi anche sul prodotto di alta gamma molta molta della sua prosperità diciamo nel settore agroalimentare guardi intanto per completare il ragionamento interrotto di De Castro appunto volevo dire purtroppo non l'avevo detto prima che è vero queste stime si poggiano sulle sabbie mobili e la capacità la qualità della spesa quando si passa dalla fase emergenziale al al recovery è fondamentale e può completamente ribaltare e questo è molto importante tenerlo in mente nella giornata di oggi sono venute fuori tutta una serie di indicazioni in in questo senso io dicevo dal punto di vista del sociale dobbiamo pensare che questa pandemia ha portato da noi ma come in tutto il mondo a non avere più una serie di servizi essenziali se pensiamo alle menze scorastiche che garantivano un'equilibrio alimentazione alimentazione sana equilibrata anche ai bambini e ai ragazzi delle famiglie a basso reddito è venuto a mancare diciamo questo apporto alimentare sano e contemporaneamente si è creato un onere aggiuntivo sulle famiglie un onere finanziario aggiuntivo e questo quindi è molto importante un po' in tutto il mondo quindi sono stati avviati dei programmi e anche in Italia sono state approvate proprio in questi giorni anche sempre misure per andare a sostegno delle famiglie e ci sono vari studi su quello che sono stati cambiamenti nei consumi ma io avendoli visti non mi sentirei di dire che ci danno delle indicazioni chiare si è passati da una prima fase in cui c'è stato diciamo la corsa all'accaparramento al cibo un aumento dell'acquisto di cibi conservabili di surgelati di cibi in scatola il latte a lunga conservazione questo l'abbiamo visto in Italia per esempio un forte aumento del latte a lunga conservazione rispetto al latte fresco poi nel tempo stesso si vede che si legge che si dedica più tempo alla spesa si dedica più tempo alla cucina però si legge anche che si fa la spesa per un periodo più lungo per doversi recare di meno al supermercato per via delle difficoltà di movimento o per i rischi che uno percepisce di stare in un ambiente più frequentato o di sanificazione quindi si è passato da un orizzonte di tre giorni ad un orizzonte di sette giorni dicono dicono alcuni studi quindi i risultati sono anche molto diversi da paese a paese ho visto lo studio ETI però mi sembra che siano parecchi i paesi che hanno denunciato come problema principale nelle risposte il problema dell'abbassamento del reddito disponibile per la spesa poi è vero che ci sono c'è un grosso acquisto di frutta fresca al primo posto però al secondo posto ci stanno le patate e crisp diciamo questo comfort food quindi e questo è una cosa che è uscita da molti da molti studi questa tendenza da molte diciamo rilevazioni che sono state fatte questa tendenza a comprare di più questo comfort food e quindi da questo punto di vista la crisi ha aggravato anche quello che è un problema legato alla qualità dell'alimentazione e sappiamo che abbiamo diciamo anche questo problema diciamo di cattiva alimentazione e obesità tutti sappiamo anche che abbiamo qualche chilo in più per la vita sedentaria a cui siamo stati costretti quindi è difficile avere delle indicazioni chiare su quello che sta succedendo però c'è bisogno di fare sicuramente su questo fronte sia della sicurezza dell'apprivigianimento che della qualità ora farei una domanda su quella che era la seconda parte del panel impatto della pandemia accelerazione di alcune trend non lo sappiamo ancora abbiamo detto ancora troppo presto per dirlo come si posiziona la ricerca pubblica che come dire ha come missione la vista lunga in qualche modo in una situazione del genere mantenere le priorità precedenti cambiarle come come che cosa guardi io vorrei partire da un dato forse in questo periodo un po' tutti ci siamo resi conto dell'importanza della ricerca ce ne siamo resi conto per i motivi sanitari i vaccini le cure e così via però abbiamo imparato anche delle altre cose per esempio quali sono le implicazioni di una crescente fragilità degli ecosistemi la degradazione degli habitat selvatici e quindi la maggiore facilità con cui si trasmettono le zoonosi le malattie delle piante prima del covid il settore agroalimentare si stava confrontando ed ancora è un problema forte la diffusione della della peste suine tutte sfide globali che richiedono strategie compresse io credo per esempio che con Green Deal e Farm to Fork siamo sulla strada giusta e la PAC si stava confrontando con queste nuove strategie e lo deve fare in maniera nuova in questo in questo momento e quindi c'è un problema politico delle politiche ma c'è anche un per trovare delle soluzioni ma c'è sicuramente anche un apporto che può venire dalla ricerca nel trovare queste soluzioni mi scusi dottoressa Zezza la interrompo soltanto per dire che finalmente siamo riusciti ad avere scanner lo vedo ok perfetto buongiorno dicevo quindi la ricerca così come la politica ha un ruolo fondamentale nel trovare soluzioni ad inefficienze che portano per esempio ad un uso eccessivo dell'acqua di fertilizzanti di pesticidi di antibiotici a nuovi sistemi alimentari lo fa Horizon 2020 lo fa Horizon Europe ma e anche noi al Crea stiamo lavorando per esempio sulle nuove tecniche di genome editing per trovare varietà che partano dalla nostra biodiversità e dare risposte a quelli che sono gli stress biotici e abiotici innovazioni per l'uso sostenibile dell'acqua per l'efficienza dell'alimentazione degli animali con riduzione delle emissioni per l'acquacultura per dirne alcune insomma insomma il ruolo della ricerca è ancora più più importante adesso in qualche modo io girerei la domanda a Michael Scannell innanzitutto sono molto contento di rivederla anche se a distanza abbiamo parlato fino adesso dell'impatto della pandemia l'Unione Europea ha risposto con delle misure straordinarie e poi rilanciando su una grande trasformazione che è appunto il next generation EU e così via qual è il ruolo della ricerca in questa in questa nuova in questa nuova configurazione in questa in questa grande leva finanziaria se non mi sbaglio c'erano 10 miliardi di euro per solo per la ricerca agricola nei prossimi sette anni mi corregga se sbaglio ok thank you I hope you can hear me and my apologies for grazie spero mi possiate sentire le mie scuse ma ho avuto problemi di connessione non riuscivo a partecipare per arrivare al punto se ho capito bene la tua la tua correction stavano parlando nel background di innovazione e ricerca per superare questa crisi nel 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 mercato agricolo sì sì è una chiave importante la ricerca ma nel contesto della sostenibilità dove la dove la commissione ha comunque evidenziato che la ricerca è un ha un ruolo principale e come sapete perché il problema dell'agricoltura è una grande vittima perché come sapete in Italia ci sono stati anche eventi climatici pazzeschi abbiamo avuto delle mancanze di prodotto e quindi dobbiamo comunque gestire questi new trends con innovazione e ricerca e quindi sono state identificate queste cose come priorità nel processo di riforma perché le cose stanno cambiando molto molto seriamente e quindi per aiutare l'agricoltura e il cibo ci sono comunque sia orizzonti orizzonti non chiari in questa zona e ci sono ci sono tre pilastri sostenibilità sociale abbiamo bisogno di sostenibilità degli agricoltori stiamo parlando di sostenibilità economica perché tutto quello ci permetterà di continuare a produrre in Europa i nostri agricoltori potranno continuare a farlo e permetterà ai consumatori di poter pagare prezzi gestibili e poi tra l'altro molto problema l'altro pilastro è stiamo parlando anche di sostenibilità ambientale e quindi ridurre tutto lo spreco che finisce nelle nostre acque e quindi dobbiamo pensare alla qualità anche dell'aria e chiave in tutte queste aria è l'innovazione e la ricerca e quindi indipendemente nella riforma del PAC lo stanno facendo i nostri colleghi e quindi includeranno le ricerche nella quello che riguarda il settore agricoltorale dobbiamo imparare dobbiamo cercare di imparare nuove tecniche dobbiamo 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 poter sfruttare per esempio nuove tecnologie questo è molto importante in questo momento e questo è quello che i scienziati europei abbiamo avuto scienziati europei che hanno vinto premi Nobel per questo tipo di ricerca anche in questo momento e questo deve essere fatto in una maniera trasparente in modo che sia sicuro ok si Angela hai detto bene si parlava di 10 miliardi 10 miliardi di iniezione di iniezione economica in questo campo tutto questo per rinforzare rinforzare questo questo settore e e le nostre comunità di agricoltori e perché tutto questo richiede grandi investimenti perché se no non saranno bisogno non avranno non 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 gli sarà possibile crescere e ci sarà quindi una nuova ci sarà la contribuzione di nuovi membri del Parlamento europeo anche italiani nel Parlamento europeo abbiamo bisogno di sì di investire per 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 migliorare assolutamente la nostra comunità la comunità agricola facciamo un piccolo passo indietro la commissione europea secondo la farm to fork strategy secondo il piano d'azione dovrebbe preparare un piano di emergenza un contingency plan per la food security e la food supply ci spiega meglio che cos'è e a che punto è perché dovrebbe arrivare nel giro di un anno se non sbaglio o meno sì il piano è di presentare le comunizzazioni è un piano è un piano futuro per la crisi e questo nel quarto quarto del 2021 quindi in meno di un anno il processo è già cominciato quindi nella commissione abbiamo già cominciato a studiare l'architettura delle predizioni di questa architettura e preparare delle proposte e ci aspettiamo di pubblicare e avere disponibile tutto questo in poche settimane per consultazione pubblica perché questa sarà anche un'opportunità formale per partecipare a questi investimenti e vogliamo noi chiaramente vogliamo invitare organizzazioni di stakeholders a contribuire contribuire e siamo molto confidenti che riusciremo ad arrivare a tenere i tempi giusti e stiamo spiegando a tutti quali sono le deadlines e stiamo spingendo tutti e chiaramente ok e in futuro vogliamo anche essere pronti per qualsiasi ok adesso è la pandemia ma in futuro dobbiamo essere pronti per qualsiasi tipo di evento che sia un evento negativo relativo al tempo o a qualcosa del genere una terza domanda perché lei appunto l'abbiamo aspettato per un po' mi consenta su un su un terzo argomento che è stato anche importante oggi l'Unione Europea scommette sul futuro con Next Generation EU e con un bilancio che non si è mai visto probabilmente no probabilmente non si è mai visto nella storia dell'Unione Europea però tutto questo è bloccato in consiglio la domanda è ma che succede se questa situazione non si sblocca che succede alle aziende agricole agli agricoltori che fanno non arrivano soldi oppure c'è comunque un sistema di sicurezza per cui alla fine gli aiuti agli agricoltori sono sempre garantiti siamo in una situazione difficile hanno preso a luglio tutte queste decisioni e stanno parlando di 1.8 trilioni di euro e queste saranno le spese per la conseguenza di tutta questa crisi e finalmente hanno preso delle decisioni ma molti molti dei stati membri non stanno accettando e quindi anche adesso mentre parlo ci sono persone che stanno cercando di risolvere questo problema e avremo il Consiglio Europeo la prossima settimana l'11 dicembre e la nostra speranza è che finalmente riusciremo a ratificare quello che sarà la framework finanziaria e quindi poi avere poi le finanze le finanze per sicuramente disposte per i prossimi settianti per il mercato agricolo e se no avremo un grosso problema in futuro perché non avere le risorse che gestiscono la crisi sicuramente sarà difficile anche per tutte le altre attività della comunità europea ci sono molte misure ci sono molte misure per esempio l'MMF non è stato non è stato approvato per l'anno precedente e quindi al momento siamo a livello di spendere quello che avremmo speso l'anno prima ok e quindi quello che decidiamo adesso non includerà tutte le nuove iniziative e sarà comunque una seconda una seconda soluzione e certamente la commissione noi abbiamo delle responsabilità e quindi dobbiamo comunque poter presentare tutte le opzioni possibili e dobbiamo fare in modo che tutte le negoziazioni siano messe a posto con l'esercizio provvisorio è inferiore ma continua sì l'intenzione è che voi possiate continuare tutte le RTA ma basato su risultati finanziari dell'anno precedente questo ha anche prevenuto il poter presentare nuove iniziative comunque questa cosa e dobbiamo assicurarci che il sistema continui con nuove innovazioni con nuove iniziative ed è una priorità politica questa perché chiaramente i capi politici devono essere d'accordo con tutte queste misure grazie siamo arrivati quasi ci è stata concessa io farei una dichiarazione a testa per per chiudere allora analisa zezza situazione incerta che cosa abbiamo di certo la fiducia nella scienza e poi guardi io credo se devo guardare all'italia che abbiamo bisogno di fare un salto in termini di governance una strategia come il Green Deal o come la Farm to Fork richiede una coerenza tra le politiche settoriali cioè non si parla più di un approccio settoriale di una politica agricola di una politica della salute ma si parla e anche la transizione ecologica quindi richiede un un'azione una coerenza tra le politiche e anche nell'azione delle diverse amministrazioni con una individuazione delle priorità che può essere complicata ma deve essere condivisa e che richiede anche un un più forte e trasparente eh patto diciamo tra pubblico e privato la eh la partnership pubblico pubblico privata ha bisogno da noi di essere rinforzata in maniera trasparente e su questo per esempio vorrei citare come virtuoso l'approccio che stiamo seguendo sulla bioeconomia con il coordinamento istituito presso la presidenza del consiglio che vede la collaborazione di tutti i ministeri e la presenza dei cluster tecnologici eh con un approccio che è eh diciamo oramai consolidato a Bruxelles ma lo è molto di meno da noi e e abbiamo in quella sede preparato anche un eh diciamo un documento di strategia sul sull'importanza della bioeconomia per eh come risposta alla crisi per la creazione quindi di un sistema eh della bioeconomia circolare diciamo per la creazione di un sistema produttivo eh più eh resiliente e ricordo che l'Italia è un'eccellenza in in questo campo dal punto di vista della produzione di innovazioni siamo il secondo paese in Europa come eh fondi europei che riusciamo ad intercettare dobbiamo fare un salto per trasferire questa innovazione sul campo e eh dobbiamo quindi fare non solo un discorso relativo alla ricerca ma anche un discorso relativo al superamento di barriere normative che non consentono al settore di fare quel salto tecnologico e eh anche azione normativa legata alla creazione di standard o di regole che consentono alle innovazioni di di affermarsi e di diffondersi e dobbiamo diffondere diciamo questo tipo di approccio anche ad altre sfide che abbiamo davanti grazie ad Annalisa Zezza un'ultima domanda anche a Michael Scannell Annalisa Zezza ha fatto riferimento a un patto più che modifiche la relazione tra nazional autorità e european autorità cosa è vostra wish per questa parte del Commission cosa do credo queste stranze devono contene la interpretazione è la quindi se mi breve in ingles l' 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 Natural Strategic Plans. Annalisa Zedza referred to a new pact between public and authorities and privates, but the new strategic plans imply a new alliance between the European Commission, the European institutions and the Member States. What are your expectations on that? What do you expect to have in those plans, national plans? But you will know very soon, because we will adopt on the 18th of December, which is just two weeks away. Il 18 dicembre adotteremo nuove raccomandazioni agli Stati membri. Di cosa ci aspettiamo? Queste raccomandazioni saranno molto importanti. Si parlerà del Green Deal, per esempio. Ma adesso non vado nel retro di tutto questo, perché è troppo lungo. Signora Zedza, lei sarà interessata sicuramente a questo tipo di raccomandazioni e questo tipo di innovazioni di cui parleremo. Perché se voi guardate le vostre riforme della PAC, per esempio, e quindi i bisogni degli agricoltori, tutti i bisogni che ci sono, in modo che loro poi possono seguire queste raccomandazioni e abbracciare le nuove innovazioni. Quello che noi ci aspettiamo in termini di Stati membri, quando i piani strategici della PAC saranno pronti, e quindi questa PAC saranno usate, quello che ci aspettiamo è che si possano avere degli obiettivi chiave e noi li valuteremo tutti e poi a un certo periodo riusciremo ad approvarle e noi facciamo questo in maniera molto costruttiva e collaborativa. Chiaramente gli Stati membri sono i nostri partner, non sono i nostri nemici. Quindi noi abbiamo bisogno di loro per poter... No, noi dobbiamo lavorare con loro per seguire un obiettivo comune. e quindi in circa un paio di settimane avrete più completamente delle proposte. Noi teniamo molto a rispettare le deadline, ok? Quindi queste raccomandazioni saranno assolute fatte entro fine anno e noi rispetteremo le deadline. Il tempo a disposizione è scaduto, è stato un panel con qualche difficoltà tecnica e io voglio ringraziare tantissimo, mi scuso con chi ci ha seguito, e voglio ringraziare tantissimo Annalisa Zezza del CREA e Michael Scanner della Commissione Europea e Paolo De Castro che è stato con noi, ma poi la linea è caduta, ma ce l'abbiamo fatta. e io devo invitare chi ci segue a non lasciarci perché dopo c'è un nuovo panel della maratona How to Govern Europe, il sostegno europeo alle aziende farmaceutiche tra competizione e cooperazione. Arriva subito. Grazie ancora a tutti e buona serata. Arrivederci. Thank you, bye. Grazie a tutti.